ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di contatori del tempo un altro episodio dedicato ai vostri video e come più spesso accade in questo periodo dove mi sto dando da fare nello smaltire i vostri video ci troviamo di qua nuovamente per parlare di voi e dei vostri orologi sì perché sto cercando di sfoltire tutti i video che ho arretrati e piano piano ci stiamo riuscendo siamo siamo ancora siamo nella cartella di ottobre ragazzi quindi siamo ai primi di novembre e ci siamo mi sto portando un pari in modo che poi praticamente anche già da adesso se mi inviate i video e il tempo dall'invio alla pubblicazione è molto più breve di una volta sto smaltendo veramente velocemente anche oggi ci ho messo 5 video dentro speriamo di farli tutti perché se mi stufo al quarto mi fermo al quarto perché poi bisogna anche starci qua seduti a guardare dopo un po ci sono situazioni nelle quali per quello che dico mandateli un po corti perché se mi mandate un video lunghissimo poi magari diventa anche un po noioso non sempre la stessa persona invece se ci sono più video no in mezz'ora ne posso fare tre quattro ecco fatto che diventa tutto più brioso no poi dipende anche da voi perché ci sono molti di voi che sono canti lenanti in una maniera incredibile che non riescono a mettere due termini assieme senza fare una pausa di quattro secondi cioè qua c'è il cricetto nella testa che si muove per fare arrivare il secondo la seconda parola è a volte la so già io prima di voi ve la invito ve la indico va bene a parte gli scherzi come partecipare lo sapete video in orizzontale massimo sette minuti poi ci sono otto va bene a volte anche quelli di nove li pubblico però insomma ragazzi 16 no 16 no da 12 15 no si fa così l'orologio del giorno oggi è questo simpaticissimo perché è molto simpatico e scherzoso rolex yacht master 40 mm di diametro cassa quadrante blu sfera rossa dei secondi calibro 32 35 con spirale paracromo chiera lunetta inserto ghiera chiamatelo un po come vi pare in platino platino ebbè è l'ostrologio quadrante blu con l'ancetta rossa è luminoso proprio luminoso poi 40 mm per me è quasi la misura perfetta 40 mm mi piace anche quelli da 42 43 il simaster 300 ce l'ho da 42 non è che il plan è tuo se lo prenderei da 45 se mi girassero gli scatoloni addirittura 39 anche 38 no i diver parlo dei diver con la ghiera però 40 veramente direi che è perfetto a me mi garbicchia tanto va bene adesso abbandoniamo i discorsi futili e passiamo col dittino inquisitore a colpire la barra spaziatrice fuoco e vediamo un po chi c'è ciao davide ciao a tutti sono qui per mostrarvi diciamo la mia collezione chiaro iniziata a natale dell'anno scorso quindi a breve farà un anno ho iniziato tutto quanto con l'acquisto di un orologio che mi ha fatto innamorare io lavoro per un'azienda automobilistica sono un designer come dicevo e ho avuto la possibilità anche di insomma seguire anche se in altri reparti la creazione di alcuni o di qualche orologio per cui è stata richiesta appunto la supervisione del brand io ho iniziato innamorandomi di un orologio che è questo qui che per l'appunto un un seiko di questo incredibile verde fantastico perché bello questo verde è qualcosa di veramente profondo che fa innamorare e la storia nasce da qui perché quando ho iniziato a guardare gli orologi mi sono innamorato di questo seiko detto vabbè troverò un orologio similare ho detto sempre il solito calibro troverò un orologio similare che mi permette di spendere meno per averlo perché pur essendo un seiko 5 ha comunque un costo relativamente alto nel mercato dell'usato e la cosa che mi ha distrutto è stato il fatto che per l'appunto non ci fosse niente di similare a questo verde neanche con la pulizia formale dove appunto sul quadrante non c'è non riporta niente a parte la scritta seiko 5 questa cosa diciamo mi ha un po distrutto perché è possibile che un orologio da 90 euro mi tocca sborsare altrettanto e lì sono entrato nel mondo degli orologi capendo ma come ma scusami secondo ma fai il designer per la per una casa automobilistica che mi pare che sia l'audi a vedere dei modellini quindi i dobloni l'incameri e ti sembrano tanti 90 euro per un orologio ma c'è qualcosa che non va probabilmente lo capisco uno che è completamente fuori dal mondo degli orologi e non si rende conto di quanto costino gli orologi a noi ci sembra che mille euro per un orologio è il prezzo normale il prezzo normale ma per una persona della strada chiunque che non interessano gli orologi 90 euro per un orologio è una fucilata cioè 15 20 25 euro non si comprano al decathlon gli orologi oppure un casietto con 15 euro quelli sono le cifre per un orologio 90 euro per un orologio hai capito mettiamoci anche nei panni di chi no ora sto qua guadagna i dobloni e poi si lamentano vediamo un po in un anno cosa cosa ha tirato su perché se tanto mi da tanto o è tirannosaurus rex oppure ha tirato fuori i dobloni vediamo che se qualcosa la vuoi devi pagare altrimenti ti puoi accontentare di qualcosa che non è quello che vuoi che fa un po un must di ogni di ogni per qualsiasi cosa ma nel caso del design dei quadranti degli orologi questo sia 447 come codice di referenza e comunque questo mi ha fatto innamorare del mondo degli orologi da lì così ve li faccio vedere un po alla rinfusa sono andato avanti acquistando sicuramente magari orologi tutti hanno come ad esempio questo questo altro seico sempre meccanico e questo ad esempio mi ha fatto capire la bellezza di un orologio fatto bene un orologio fatto bene con dei trattamenti comunque dove delle satinature delle lucidature al di là dei calibri che una cosa che a me non riguarda personalmente perché l'importante che funzioni infatti ho anche diversi quarsi anzi forse la maggior parte sono quarsi questo è un orologio che mi piace indossare mi piace che sia grosso mi piace che sia voluminoso mi piace che si veda subito dopo per contrapporsi a questa cosa ho iniziato a desiderare un dress watch quindi ho acquistato questo orient bambino da 38 quindi diciamo a una dimensione ottimale per essere un bellissimo dress watch un po rumoroso non tanto il movimento quanto la parte dietro il bilanciere massa oscillante non so il motivo ma comunque fa un bell'effetto alle volte se si tira la ghiera secondo me sembra un po giocattoloso ma insomma qua dobbiamo metterci d'accordo con i termini se si tira la ghiera quella lì è la corona di carica quello dietro che senti rumoroso non è il bilanciere è la massa oscillante o anche rotore volgarmente il bilanciere è quella cosa tonda che oscilla che fa così no che fa così e che serve a dare il tempo all'orologio capito i termini almeno i termini ora capisco che te sei un designer e la forma va oltre la sostanza diciamo così no ma qua la sostanza dei termini è necessaria per insomma anche per esprimersi nel modo giusto per far capire all'astante cosa stai dicendo no altrimenti rischiamo di incapponirci in situazioni che non cool the sack come diceva cecciolina diciamo che ti tira fuori da tante da tante situazioni al quale non sai cosa indossare diciamo però questo qui effettivamente forse anche in altre colorazioni non sarebbe stato male la difficoltà è stato trovare il 38 da lì poi mi sono appunto appassionato al discorso come dicevo degli orologi mi sarebbe piaciuto prendere la versione meccanica di questo ma mi sono spaventato tantissimo per quanto riguarda il discorso della riparabilità perché molti dicevano appunto che era un orologio che aveva difficoltà nel quello meccanico nel ripararsi l'ho sentito anch'io si dice così io non sono un tecnico non sono un orologiaio si dice questa cosa poi a volte invece sento dire da orologiai ma non c'è nessun problema però non ti devi nemmeno spaventare tantissimo cioè sono ci sono situazioni che vanno affrontate no col coltello tra i denti nella battaglia e una di queste quando si rompe un orologio cosa si fa e nessuno lo sa cosa si fa facile quando ci sono gli orologi nuovi rimandarli all'assistenza della casa madre ufficiale quando non ci sono quelli nuovi devi un po' aggeggiarti a vedere chi è il più bravo chi ci sa fare quanto c'è da spendere fa parte anche questo dei lobby cioè combattere contro i guasti i problemi che si creano negli orologi ora arrendersi prima e scegliere un modello al quarzo piuttosto che uno meccanico perché si ha paura di incappare in inconvenienti non è un buon motivo per scegliere un quarto se invece ti piace quell'orologio al quarzo lo vuoi con tutto il tuo cuore lo voglio proprio al quarto perché bla 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 cavolo prendi quello al quarto è fatto bene ma se c'è una scusa così poco attinente ho paura che si rompe allora no quindi ho preso questa versione che mi piace molto per via del contrasto tra il blu e l'arancione e niente ovviamente è un orologio al quarzo da quel punto di vista c'è poca nobiltà ma funziona bene mi piace tantissimo questo bracciale questo bracciale da questo aspetto vintage lui è un bullet e adesso passiamo all'orologio più vecchio che ho che è stato un orologio conquest che ho deciso di non di acquistare che ho scelto perché per una per un evento dove io ho regalato un orologio mi sono chiesto se preferissi un cronografo un orologio slick comunque pulito e questo mi è piaciuto tantissimo ha bisogno di una lucidatura perché dopo tanti traslochi si è un po rovinato ma è stato indossato veramente pochissimo l'ho comprato credo 15 anni fa 10 15 mi piace molto l'ho usato poco perché per me l'orologio con un valore più alto che in collezione nella mia nella mia simpatica povertà e per l'appunto un orologio che magari ho ottenuto sempre più da parte ho sempre usato degli swatch cosa che adesso non faccio più ci sono delle incongruenze qua nel tuo racconto nel tuo storytelling mi dici che è un anno che ho collezione orologi sto qua 15 anni fa l'hai presa come fa 15 esisteva già il conquest così 15 anni fa vabbè 15 anni quindi comprato ti poi fai il designer per una casa automobilistica supervisioni e poi la tua povertà ragazzi mettiamoci d'accordo proprio insomma un orologio invece che una storia bellissima è questo qui attualmente la terza volta che la riparazione perché quando quando praticamente stavo facendo da giovincello un evento diciamo lo trovai lo regalai a mia mamma trovai letteralmente a terra lo regalai a mia mamma mia mamma non è appassionato di orologi né ne ha mai capito tra virgolette il valore infatti l'ha sempre usato nelle faccende quotidiane tanto da distruggere il vetro che appena fatto sostituire e a sua volta avendo usato per le faccende domestiche lavando i piatti ha fatto questo questo viraggio che all'interno del quadrante che ho chiesto per l'appunto di lasciare successivamente me ne hanno riparato due volte perché una volta il vetro hanno fatto un ottimo lavoro devo dire la verità qua sono di torino nord italia e mi hanno fatto un ottimo lavoro peccato poi si è fermato il meccanismo alla fine con un bagno di diciamo quelle soluzioni chimiche che permettono di ripristinare o di aiutare collegamenti elettronici non è stato necessario cambiare cambiare nessuna parte meccanica meccanica è qua questo qua che che parte meccanica cambia il quarzo ma io non ti capisco e poi anche sto qua è trovato da giovincello l'hai trovato in terra vabbè che che de retano l'hai trovato da giovincello quindi non fa parte di quell'anno che dicevi te che inizia da collezionare ma ci stiamo prendendo per gli scatoloni qualcosa che ragionamento e poi il viraggio che ti dici quali mi sembra acqua che è entrata alla signora lavare i piatti di entrata l'acqua dentro sicuramente si sono ossidati i contatti e hanno fatto un lavaggio per ripristinare i circuiti elettrici per questo qua è al quarzo se non sbaglio non non sarà elettrico come quello di elvis presley non sarà al quarzo nella parte meccanica un po confuso sei vado veloce perché vi mostro gli ultimi diciamo non gli ultimi in ordine cronologico questo lo amo l'ho adorato a quarzo perché fa un po il verso dello speedmaster forse è un citizen degli anni 80 ma la parte bellissima è il fatto che questo orologio ha un minimalismo per quanto riguarda le scritte probabilmente che sendo un designer vedo queste cose le vedo con un occhio diverso magari mi danno più fastidio di altra gente e aveva questo minimalismo questo accenno ai numeri insomma tutto molto minimal che mi ha colpito tantissimo ed è un orologio mi piace tanto 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 un orologio invece che ho scelto io quando ancora non capivo niente d'orologio ma tutt'oggi mi piace e quando lo indosso non so perché fa un bellissimo effetto e tutti quanti mi fanno segno che è molto bello il tuo orologio ma in realtà semplicemente un eco drive e questo è questo citizen questo citizen qui non lo so grande è un 40 io il polso grosso ma comunque mi piace mi piace sempre la luce adesso al polso o un orologio stile bow house è un mundane dal quarzo questo farvi capire mi piace comunque indossare tutto è l'ultimo e poi anzi il penultimo vi saluto è questo seco di aprile del 71 da una storia singolare perché è un lascito di mio padre però mio padre non ha lasciato bianco ho provato ho provato a ripristinare il meccanismo perché dopo messa la batteria è andato via non funzionava più e alla fine non c'è stata possibilità e allora ho deciso di comprare un altro per cambiare poi l'interno e niente praticamente questo quando arrivato in realtà era molto più bello e quindi ho deciso di tenerlo mettendo il bracciale di mio padre che ancora in vita per carità però il bracciale mio padre è cercare un altro magari brutto al cui sostituire la parte interna questo è un seco degli anni appunto del 70 l'ultimo che ho comprato in realtà questo è per la mia per la mia compagna e questo ai bit a carica manuale un orologio funziona benissimo un po dura il settaggio della data ma è veramente un gioiellino è veramente piccolo perché vi mostro la differenza vi mostro la differenza con questo insomma è veramente un oggetto piccolo delicato molto sobrio e niente io tutto questo vi saluto l'unica cosa volevo dire che è stata bellissima la 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 possibilità la possibilità di grazie a questo orologio di entrare nel mondo dell'orologeria perché grazie a questo ho avuto la possibilità di incontrare persone anche anche al lavoro parlare di orologi fare complimenti per degli orologi e si sono aperte delle connessioni incredibili quindi io questa passione degli orologi le assimilò più ad una nuova skills acquisita per avere degli argomenti di conversazione anche tra appassionati perché io ho la passione delle auto magari delle moto di altre cose ma sicuramente l'orologio di per sé è una passione che noti su qualsiasi livello su qualsiasi scala quindi anche le volte se si va a degli incontri di automobili hai magari la persona di fronte che mi scambia questo sego per un rolex lo guardo ma poi magari al polso anche anche lei un orologio magari molto prestigioso inizia a parlare o comunque un orologio molto interessante quindi quello che volevo dire che al di là degli orologi di per sé la bellezza di questa cosa è sicuramente la possibilità di poterli collezionare di poter parlare e avere la possibilità di interagire con le persone in una sul nuovo livello grazie a tutti e buon canale come dici tu l'ho buon canale non aveva mai detto nessuno buon canale va bene un po di un solo un po deluso si è partito con il designer dell'audi bla 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 boom 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 e poi tutti orologi raccattati qua e là trovati per terra lasciati recuperi i quarzoni ti do un sé io ti do un sé proprio perché ti voglio bene perché sennò qua sarebbe da chiudere il libro e andarsene a casa vabbè che se sei un designer ti guardi più il design ma non ho trovato anche quello che ti dicevi le citizen dicevi che sono un designer lo vedo pulito me non lo vedevo pulito c'era quella quel datario ore 4 rotondo così che erano uno sputo in un occhio messo lì sul quadrante e te mi dici che è tutto bello pulito pulito prendi uno jungans o un homos che quelli sono ispirati al bow house quello il minimalismo pulito mia quel citizen lì va bene dai non so più cosa dire sono rimasto deluso speriamo che in futuro vabbè poi il discorso infatti si chiama community no la community degli orologi perché perché al di là degli oggetti stessi poi si viene a creare quello che si sta creando adesso tra me te e voi è uno scambio di opinioni di battute di informazioni di nozioni e poi portano a conoscere persone in quanto ne ho conosciute di una marea sia per business no produttori di orologi quello che vuoi ma per passione amici appassionati i mercatini qua e là che poi diventano anche amici l'amico che era maschi non l'avrei mai conosciuto se non se non per gli orologi sono forse stato per gli orologi e invece siamo conosciuti troviamo anche bene quindi si va che in giro si è una community quindi continua lì a continua incomincia incomincia a tirare fuori i due soldi per comprare qualche orologio un po come si deve automatici ce n'avevi due cioè il conquest che ha preso 15 anni fa che mi ha buggerato non è un anno perché poi quell'altro del babbo il ascito insomma c'era un po di confusione vediamo di chiarire le cose altrimenti il ditino inquisitore si abbatterà sui tuoi orologi bocciati 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 prossimo video va ciao davide sono brian braia da campi bisenzo provincia di firenze sono neofita ho iniziato a collezionare orologi da quattro cinque mesi vediamo ho 16 anni però con i recenti acquisti di oggi penso dire che la mia collezione sia abbastanza grande da potertela mostrare bravo quattro mesi adesso guardiamo rispetto lì al designer dell'audi cosa ci tiri fuori è quattro mesi 16 anni ora non mi deludi anche te perché sennò chiudo il canale io cosa stiamo a fare inizierei con il mio primissimo orologio un ciofeca alert questo stroili regalatomi da mio nonno quando avevo circa 6 7 anni e vabbè da bambino va bene maltrattatissimo infatti ha fatto bene a regalare il mio orologio certo che costa poco e nulla ci sta ci sta fatto bene ma per un bambino penso vada più che bene figurati ha già un bambino con un orologio tanta roba passerei un pane di vintage questo citizen cronografo è come quello di prima al quarzo a cui devo cambiare la batteria e sperare che non abbia fatto l'acido e in più trovargli anche un bel cinturino i quattro pulsanti secondo te che tipo di cinturino potrebbe starci bene nero nero di pelle nera cuoio nero con le punture bianche al quarzo trovato una bancarella pagato poco e niente ebbè placato oro ma molto carino per simpatico per averlo pagato così poco fa il suo poi vorrei passare a questo bostock covandischi anche questo non so se definirlo vintage non ho idea di quanti anni abbia a cui ho abbinato questo cinturino bund spero di averlo detto bene sì e l'aereo sul quadrante so che a te non piace ma l'aereo caratteristico dei vostri e ghiera bidirezionale sì corona vite e anche questo devo dire molto bello molto bello molto bello e dici poi passerei a un philip watch con questa lavorazione del quadrante particolare a vinile tanto che appena l'ho visto mi ha stregato ho detto questo deve essere mio ho aspettato un paio di mesi prima di prenderlo perché per le mie tasche il prezzo è abbondante direi molto bello fa il suo peccato per il quadrante per il fondello a vista che non ci sta molto bene ma davvero ma veramente devo dire che mi ha stregato è un philip watch grand archive 1940 oh grand archive poi passiamo a i due acquisti di oggi ah due bravo questo è bello assai questo ti dà soddisfazione acciaio e oro molto bello un top buy secondo me diventerà probabilmente uno dei miei nuovi everyday watch da per forza il fondello a vista pure questo eh ci sta dai quadrante grigio grigio e veramente un gran bell'acquisto ma acciaio e oro? poi il mio everyday watch fino ad oggi questo 6.5 sport nero e oro che gli dà anche quel tocco elegante il nero e oro secondo me ti piace l'oro eh? anche questo purtroppo il fondello a vista e devo dire anche questo top buy se non fosse che ovviamente essendo un 6.5 ha sempre lo stesso problema del bracciale che purtroppo è quello che è molto luminoso al buio poi cavoli ovviamente l'acquisto più importante per me sempre comprato oggi fresco fresco di gioielleria questo Tissot PRX bello con il quadrante ice blue sfumato che lo rende un po' più particolare degli altri e chiusura a farfalla anche se un po' mi sta antipatica bracciale integrato che a me sinceramente non dispiace molto leggero questo finestra data purtroppo un po' piccola ma comunque non ho problemi nel vederla qua si vede con l'acquisto purtroppo pure questo ma almeno il il movimento è un minimo decorato e carino da vedere ma si insomma dai è tutto eh? ti ringrazio Davide se pubblicherai questo video certo che lo pubblichiamo sono curioso di sapere il voto che darai alla mia collezione e rock rock e niente non mi hai deluso devo dire che alla fine non mi hai deluso 4 mesi minchia 4 mesi sono veramente pochi dai hai fatto un bel lavoro all'inizio ho un po' titubato no? ho detto ahia qua si va sulla strada storta no? il Philip Watch potevi risparmiare quel Philip Watch sul quale hai detto per le mie tasche ho dovuto risparmiare quello che potete tranquillamente evitare di acquistarlo però è il percorso che facciamo tutti che abbiamo fatto tutti che ma a qualsiasi livello che si fa provare toccare vedere fare brigare poi scegliere e poi quando hai detto che per le tue tasche è stato un esborso notevole e faticoso prendere quel Philip Watch ho detto ah e qui allora non si va più su perché gli altri orologi costano ancora di più poi invece cavoli hai tirato fuori il Seco 5 lo Tsuyosa e il Tisoprx che costano dei soldini cioè costano dei soldini mentre i tre insieme sono soldi per uno che ha 16 anni che sicuramente studia no? famiglia normale che poi anche se uno fosse di famiglia benestante non è che ti danno i soldi da buttare via cioè ti devono anche insegnare il valore del denaro quindi non è che tre orologi completamente vali io ti do sette ti do sette perché quattro mesi passione ok percorsino un po' sporco che vai a cercare di qua di là come hanno fatto tutti sei arrivato a tre orologi che sono decenti anzi ottimi PRX per l'amor del cielo noto con piacere noto con neutralità che la PIL del bracciale integrato fa presa anche sui 16 anni perché ne hai presi ben due nel momento in cui hai dovuto scegliere di comprare orologi nuovi sia lo zuiosa che il PRX con il bracciale integrato che un po' si sovrappongono come stile lo zuiosa è acciaio e oro e il 6.5 con gli accenti in oro che non è oro è color oro pvd no ti piace così il tuo gusto al momento è questo va bene speriamo che non ti stufi comunque dai un bel sette te lo sei preso e continua così cioè ora a questo punto date anche una calmata non serve che butti via dei soldi goditi questi orologi qua poi fra sei mesi un anno decidi cosa fare magari vendi due pezzettini lì ci fai qualche orino e li metti da parte e ti prendi qualcos'altro sempre su quel livello lì finché uno non inizia a lavorare a sistemarsi per bene è inutile che sta a spendere dei soldonissimi negli orologi ok mi raccomando non fare il passo più lungo della gamba buongiorno Davide sono Andrea San Giovanni un saluto a te e a tutti gli utenti del tuo canale ciao Andrea sono stato contento di averti incontrato a Gorgonzola alla fiera di orologico alla fiera di orologico sì Andrea sì praticamente questo ragazzo qua aveva già inviato i video sugli svegliarini lui è fissato con gli svegliarini e mi ha fermato alla fiera di di Gorgonzola di orologico mi ha riconosciuto mi si è presentato e io gli ho subito chiesto lo so che è fissato con gli svegliarini io avevo visto chiaramente su una bancarella un long jean svegliarino con la stessa forma del long jean admiral quadrato così con il braccio integrato che mi aveva l'ho visto così poi chissà quanto vogliono perché lo sapevo già che volevano tanto me lo immaginavo poi dopo l'ho incontrato abbiamo parlato ecco ho fatto il discorso della community ci siamo messi a parlare e gli ho chiesto ho visto un bel long jean là con lo svegliarino e lui fa l'avevo già visto anch'io glielo ho chiesto vuole 1800 euro visto che voleva tanti soldi quindi l'ho lasciato lì da parte perché al momento nella mia collezione umile di long jean 1800 euro per un vintage così non ci spendo al momento poi un giorno non si vedrà al momento per fisico prendere qui a 300 350 quelli così bravo Andrea guardiamo cosa c'è da offrire vedo già il vulcan svegliarino quindi c'è poco da fare discorsi si parla di svegliarini qua cricket radio orologico qualche settimana fa oggi come dal libretto di istruzioni qui presente volevo parlare di uno svegliarino particolare il vulcan cricket orologio che hai ampiamente presentato sul tuo canale la vulcan è una casa orologiera che ha iniziato a produrre orologi da fine 800 il brevetto di questo svegliarino è stato registrato nel 1949 ma la produzione era già iniziata qualche anno prima il primo calibro viene chiamato R120 mentre dal 1960 in poi viene chiamato S2 ed è stato inventato dal dittettore tecnico della vulcan il signor Robert Litschein il problema che la vulcan affronta e risolve è quello del volume dell'allarme così viene realizzata una membrana acustica alla quale viene allegato un perno che fa da incudine al martelletto del sistema d'allarme sopra questa membrana che funge da primo fondello c'è il fondello vero e proprio quello a contatto con il polso che permette alla membrana di oscillare liberamente e che funge altresì da cassa di risonanza grazie allo spazio tra le due basi ok ho capito adesso spiego anche per gli amici che magari non hanno seguito bene per aumentare il volume della suoneria cosa hanno fatto chiamiamola suoneria come nei telef c'è il fondello che ha contatto con il polso bene se il martelletto battesse contro questo fondello chiaramente verrebbe attutito assorbito dal polso che assorbe le vibrazioni e quindi anche le onde sonore invece hanno realizzato oltre al fondello una membrana staccata dal fondello sulla quale batte il martelletto che gli permette di vibrare e di fare il suono tra l'altro la distanza tra la membrana e il fondello crea anche una camera di risonanza nella quale amplifica il suono la membrana è di acciaio mentre per il calibro 406 versione femminile e per i modelli cricket in oro la membrana è d'oro stessa e viene chiamato cricket golden voice ed ha un tono più morbido e meno secco vi faccio vedere ora nel dettaglio l'orologio che ha una discreta fioritura e anche la particolarità del fondello eccolo lì vedete il fondello a contatto con il polso è il secondo il primo fondello o membrana ha attaccato il perno che fa da incudine al martelletto collegato al sistema allarme attraverso questi fori c'è lo spazio per la propagazione del suono il vulcan funziona in questo modo prima di tutto la carica avviene attraverso una singola corona sia per lo svegliarino l'ora vera e propria se carico verso le ore 12 carico la sveglia se carico invece verso le ore 6 carico il movimento dell'orologio è una cosa che avevamo già visto in un mio filmato per l'ancophone però in questo caso la regolazione non avviene come nell'ancophone attraverso la medesima corona ma bisogna utilizzare il pulsante a ore 2 per regolare la sfera dello svegliarino io premo fino in fondo il pulsante e la sfera dello svegliarino è libera di ruotare ora la faccio combaciare con la sfera delle ore e lui è pronto per suonare l'attivazione avviene quando io premo in fondo la corona sentite che suono è caricato poco per smettere in questo caso è già a fine corsa però si ripreme il pulsantino a ore 2 secondo me questo è un orologio che in una collezione monotematica di svegliarini non può mancare anche se questo non è il modello presidente ossia il modello che è stato indossato da svariati presidenti americani durante i vari anni io Davide ti ringrazio per la gentilezza e per il tempo che mi hai dedicato e spero che anche questo svegliarino possa essere stato di interesse ti mostro anche il libro che io ho acquistato e che parla degli svegliarini è in inglese ma è una raccolta molto interessante sui calibri e sui vari modelli che si sono succeduti negli anni grazie ancora ciao 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 Andrea avete visto amici miei appassionato di svegliarini collezione monotematica ma non monomarca come a volte si chiede monotematica gli svegliarini lui ce li ha tutti ce l'ha già fatti vedere anche altra volta cosa dire poi anche è piacere ascoltarlo diciamo la verità sa spiegarsi bene quindi ti trascina all'interno del suo racconto in maniera attiva il volto chiaramente quando lo diamo apprezzo notevolmente lo svegliarino il suono l'avete sentito il suono eh si sentiva sì che ora a vedere questi svegliarini qua uno gli può dire anche lo schiribizzo no di avere uno svegliarino in collezione no gli viene ci sono volcain li fa li fa tuttora i cricket gli svegliarini quindi volendo poi ci sono anche i Seiko Belmatic ad esempio che possono fungere da alternativa ce ne sono diversi marchi Longin avete visto Longin io non sapevo neppure che Longin avesse fatto uno svegliarino e invece c'è l'ho visto il calibro però era mi sembra non me lo ricordo non era un ETA era un FE mi sembra comunque grazie Andrea di averci fatto vedere questo bello orologio e poi sullo sfondo tutti gli altri suoi fratellini che ci è piaciuto tanto ogni tanto un piccolo qualche pillola di documentario ci fa piacere prossimo video ciao Davide ti mando questo video in aggiornamento della mia collezione parto subito con l'unico orologio digitale che è questo Casio che come vedrai è color canna di fucile mi piace moltissimo perché ha il quadrante in negativo ah già di che però diciamo mi piaceva molto ma certo ti mostro poi uno dei miei due vintage che ho questo qua in particolare è un Seiko 5 e il modello 7S26 3110 che non tutti lo sanno ma è stato utilizzato al posto del Rolex Dayjust nel film American Psycho in particolare lì la versione color acciaio oro io ho preso la versione solo diciamo in colorazione solo acciaio e è quella che mi piace di più bello 36 mm bella bella chiappetta parto successivamente con quest'altro che diciamo è un un everyday Orient Tristar con il quadrante verde bello è molto alta la qualità perché comunque se facciamo così sentiamo che Sibila e diciamo l'acciaio non è molto pieno però comunque mi piace moltissimo e quindi lo tengo in collezione non è molto pieno passiamo successivamente al un altro pezzo entry level anche qui anche se parliamo del Citizen Tsuyosa che in giapponese vuol dire forza un orologio da poche pretese ma che comunque mi restituisce una buona qualità al polso e comunque essendo il mio primo automatico fa sì che sia sempre comunque abbia comunque un occhio di riguardo nel momento in cui lo vado a indossare mi piace molto quindi il tuo primo automatico anche te sei un neofita il Citizen Tsuyosa è uno di quelli che va a equipaggiare i neofiti che si affaccia al mondo dell'orologeria un po' come la 600 la 500 negli anni che furono che motorizzò tutta l'Italia qua c'è Seiko 5 anche Seiko 5 non dimentichiamoci che svolgono questa funzione addirittura con il vintage un neofita che è andato a prenderlo il vintage strano però bravo andiamo successivamente con un Seiko che magari a te non piacerà perché parliamo di questa colorazione con il quadrante chocolate del Seiko 5 Sport parliamo comunque di un simile diver anche se non ha diciamo la corona vite ma solo a pressione la ghiera comunque non restituisce un feeling da massima qualità però comunque parliamo di un orologio che mi piace molto volevo qualcuno diciamo volevo un orologio che avesse questa colorazione diciamo simile acciaio e oro ho visto ho visto questa e mi è piaciuta mi è piaciuta molto bravo dai molto molto pesante però comunque è giusto così passiamo adesso a un orologio comunque diciamo un po' chic sempre Seiko e parliamo di questo Seiko Presage del Beer mi piace moltissimo il quadrante un po' passami il termine allo stile Grand Seiko e tutto bloccato d'oro modello che diciamo non ha bisogno di presentazione la linea Presage è sempre un pesante diciamo famosa tra gli appassionati però comunque mi è piaciuta molto esclusivamente questa referenza la cocktail beer e l'ho voluta fare mia non tutti lo sanno ma si chiama cocktail perché si parla del locale diciamo del cocktail bar vicino alla sede Seiko in Giappone successivamente parliamo di un altro everyday frazionato parliamo dell'Hamilton Marf della versione da 38 quindi non l'originale però mi piaceva molto è uscita da poco la versione con il quadrante bianco e quella con il braccialetto però rimango fedele a questa versione ora passiamo a un pezzo che comunque ha subito diciamo un'evoluzione nella mia testa io volevo uno Eccolo qua Eccolo qua Eccolo Inizialmente mi sono orientato verso il Maester Chronoscope poi per un modello mi ha dato a noia e quindi ho scelto di ricadere sul Max Bill che è questo modello qui mi piace molto la firma del designer sul fondello inizialmente aveva il cinturino ma io ho messo questo marciale maglia milanese e mi fanno impazzire il fondo dei numeri presenti sul quadrante mi piace moltissimo versione da 38 mm automatica bianco eh successivamente anche qui un orologio un po' particolare parliamo del Nivalda del 77 revisione del modello anni 70 che già prima si ispirava diciamo al celeberrimo Royal Oak di Audemars Piguet sicuramente parliamo di un orologio interessante magari non avrà quel pregio però a mio modestissimo parere è anche più più bella questa versione in particolare con il quadrante di simil carbonio lavorato con questa colorazione azzurra va bene successivamente un pezzo che giudico assolutamente invedibile un po' come il tuo oris diver 65 e parliamo di questo Baltic aquascaf classic blu è un pezzo che con i suoi bracciali a chicchi di riso la sua lavorazione e soprattutto ecco la qualità della ghiera mi piace moltissimo e io giudico appunto come per tu ai loris io ho questo che giudico assolutamente invedibile termino diciamo verso gli ultimi pezzi allora ecco il mio crono ho scelto un tiso apr 516 a cui avendo un polso piccolino ho montato questo cinturino simile scacchi racing con impunture rosse che secondo me è la morte sua bellissimo ci sta promosso gli ultimi pezzi sono un gmt della squale che è questo qui mi è piaciuto moltissimo soprattutto la qualità le finiture e l'ho preso e ulteriore pezzo di squale che ho che ho preso è questo diciamo questa referenza di squale 1545 versione root beer ne ho due quindi il cocktail beer e questa versione root beer entrambi sicuramente degli omage però spero mi perdonerai queste piccole cadute ma mi piacevano moltissimo e li ho presi so che ci sono squali più belli però sono quelli che a me piacevano insomma ultimo pezzo vintage me l'ha regalato mio nonno è questo zenith in oro diciamo il mio orologio magari che metterò quando avrò il matrimonio e spero di non mettere anche per il mio divorzio spero che non ce ne sia grazie per l'attenzione a tutti e l'ho ci vuole sempre l'orologio per il divorzio dovete essere sempre pronti succede prima o poi succede niente è una collezione è una collezione cospicua con tanti orologi anche tutti interessanti gli ultimi due squalsi il primo è l'ultimo che mi ha dato più fastidio di tutti proprio con le spallette della corona la sfera mercedes quella lì è veramente uno smaccato una smaccata ispirazione andare a copiare il rolex gmt sono situazioni nelle quali il squale secondo me non dovrebbe nemmeno infilarci perché io lo sapete che abborro le copie rimarchiate ok però lo sappiamo che tutte le case più o meno hanno preso ispirazione hanno fatto delle copie abbiamo visto anche Longini ha fatto degli orologi simili al Dejust per dire però se lo fa una casa strutturata che ha dimostrato di aver fatto orologi con la O maiuscola con personalità orologi iconici se poi ogni tanto mi va a finire in una puttanata come questa e vabbè gli dico questo qua non lo comprerò mai non mi va a inficciare sul discorso della validità della casa squale è una casa valida fa orologi anche loro con la O maiuscola con personalità riconoscibili belli robusti poi va a fare queste puttanatine qua che sono secondo me evitabili poi ti fai agganciare dal design che ti ricorda quello di qualcos'altro e lo compri contento e contento di tutti chiusa questa parentesi gli altri sono tutti orologi validi tutti orologi validi pensavo ti fermassi come l'amico di prima su Iosa su quel livello lì poi si è andato oltre Jungans Max Bill non mi ricordo più poi cosa il Seiko 5 il Seiko Presage tutto tutto pvd oro è brutto però è un bell'orologio mi va da F77 Baltic Tissot cronografo bello 7 ti meriti un 7 ti meriti un 7 perché hai dei begli orologi li hai scelti bene di cioffechissime non ce n'hai poi c'è l'orologio al quarto del nonno tutto d'oro bene quello si che vale tutto d'oro ha un valore il Seiko Presage pvd oro è pesantissimo a vedersi sapendo che non è oro vero capito uno dice è oro vero va bene faccio lo sforzo che è pesante alla vista ma almeno so che ha un pregio nei materiali se invece vuol far finta di essere oro e lo pitturano col pennello cinghiale e poi te lo vendono e te te lo metti che oltre a dover sopportare il fatto che la vista è pesante devi anche sopportare il fatto che è finto è oro finto quindi non ha senso capito comunque il 7 te l'ho dato te lo sei meritato ci vediamo al prossimo video amico mio ciao davide sono Stefano da Genova presento l'aggiornamento della mia collezione di orologi vintage partendo da questo Seiko Belin che mio nonno regalò a mio fratello per la sua prima comunione lui non lo usava me l'aveva lasciato in un cassetto l'ho fatto revisionare e adesso funziona lo indosso e naturalmente è sempre il suo ce l'ho per così dire incomodato d'uso ed è in perfette condizioni è una referenza 7600 8002 del 1971 71 e naturalmente il cinturino non è più quello originale a chicchi di riso ah peccato questo quadrante grigio soleil e e questo fa il paio con quello che mio nonno a mia volta mi aveva regalato e che ti avevo già mostrato nel video precedente ho capito dopo di questo ti mostro questo ti so si star con questo bel quadrante nero nero è particolare tutto originale a parte la corona che non è originale il fondello bello fondello mi piace il cinturino l'ho sostenito con questo racing ci sta mi piace molto bello e dopo di che un altro ti so questo è un carousel bello senza la ghiera la ghiera è andata persa l'ho acquistato senza non si vede e comunque mi è piaciuto subito l'ho preso senza indugi gli ho sostituito il cinturino gli ho fatto fare questo su misura con le punture che richiamano il bordo del quadrante e bello bello in questo modo questo design qua mi piace amore ecco un motivo io infatti così non lo ho visto se vedessi un longin vintage fatto così probabilmente farei salti i salti mortali pur di prenderlo perché è veramente bello questo design mi piace così tanto questo può essere un motivo per il quale uno ogni tanto deve anche deviare da collezionare sempre i soliti longin vintage per passare anche cuginetti di Tissot che non sono per niente male guarda che cassa satinata spazzolata fa venire l'alcolina in bocca ma non a me a lei ci piace questo come corta la sfera delle ore mi piace questo qua molto mi piace porco di quel giuda valorizzato poi questo Bulova Accutron scheletrato con cassa asimmetrica decorata sopra bello guarda che cassa come strano tutto originale tranne il bracciale maglia milanese che non è tutto originale ma ci sta e l'orologio era per il mercato americano è dalla referenza sia sono risalito del 1968 e purtroppo non ha smesso di funzionare ho cambiato la batteria però niente da fare dovrò portarla a Milano farlo riparare e speriamo bene poi passiamo al prossimo il problema degli orologi al diapason è trovare chi sa metterci le mani senza fare della confusione questo vale sia per gli Accutron della Bulova sia per tutti quegli orologi svizzeri come il mio Longin Ultronic oppure tutti quegli altri che hanno lo stesso calibro della ESA Zenit Eterna tutti ce l'hanno che sono al diapason e nel momento in cui smettono di funzionare la prima cosa da fare è cambiare la batteria che ci vuole quella particolare nemmeno tanto e poi se non è la batteria bisogna andare a mettere le mani dentro lì si tratta di elettronica non è che un orologiaio lo può fare un orologiaio che ripara la roba meccanica non è detto che sappia fare le roba elettronica no? Titus fondo di magazzino Titus come nuovo tutto originale mamma mia corona originale che culo fondello con il logo della Titus vuoi vedere? Solville Solville eccolo lì Solville e Titus Geneve io avevo comprato a un mercatino avevo usato veramente ho messo male un Solville capito fa sempre parte della Titus e l'avevo trovato lì ma l'avevo pagato poco 50 euro proprio quando ti vuoi togliere quegli sfizi lì gli acquisti compulsivi che passi davanti alla vetrinetta lì non c'è niente non c'è niente proprio in quei mercatini dell'antiquariato dell'usato il mercatino dell'usato avete in mente quelli che hanno il franchising in tutta Italia vai dentro c'è il ciarpame a destra ciarpame a sinistra vestiti usati tutto poi c'è la vetrinetta degli orologi dove ci sono tutte ciofeche di solito anche falsi a volte e quando trovi un qualcosina che ti può sembrare il metà interessante allora ti salta sulla scimmia sulla spalla come se avesse visto uno de mort piguet dice quello lì lo devi prendere 50 euro gliele dai lo prendi lo porti a casa perché l'hai preso non lo so perché l'hai preso me l'hai detto lei però non serviva e Titus anche qui ho fatto sostituire l'originale perché volevo salvare il la fibbia che è logata Titus e ci sono riuscito cambiando appunto il cinturino bravo poi dopo questo passiamo a uno zenith stellina placato oro placato questo è tutto originale sia il fondello che che la corona il bracciale naturalmente no l'ho fatto mettere io poi cinturino quindi successivi questo longjin 30L opera faccelo vedere faccelo vedere anche questo tutto originale perché c'è quel segno lì sul quadrante in corrispondenza della sfera della secondina dei secondi continui come se toccasse strusciasse proprio il termine tecnico sul quadrante gli ha fatto quella fossa lì c'è qualcosa che non va lì lo sta facendo adesso o l'ha fatto in passato e poi è stato sistemato perché se lo fa adesso non mi piace non mi piace longjin la corona quella corona lì non è la sua ragazzi la corona lì non è la sua ma no direi proprio di no 30L fatto così e però con questi ci stare longjin se voi andate a guardare i cataloghi hanno fatto tante di quelle referenze di quei quadranti che a volte uno dice è impossibile che sia un quadrante originale e poi vai a vedere l'hanno fatto veramente anche se io questo qua non l'ho mai visto con questi indici qua così sicuramente l'ho fatto la corona non era sua dalla corona che adesso non riesco a mettere a fuoco e naturalmente il fondello hanno il bracciale troppo grosso bello conservato molto bene va bene il successivo è sempre un altro longjin un admiral fino a fine anni 60 quadrante soleil colore champagne e vediamo se riesco a mettere la fuoco eccolo qua la corona è longjin la corona è longjin ma l'ho fatta mettere dopo non è non è coeva e il bracciale è sempre longjin è cinturino non è un bracciale è ordinato però al momento dell'acquisto non è quindi coevo ma è originale con la sua fibbia e anche questo molto molto bello molto molto bello con il precedente è uno dei più belli orologi che ho in collezione ecco e poi l'ultimo questo acquistato nuovo è un glissin combat sub 42 mm e anche questo è in origine aveva un bel bracciale nato che però ho preferito sostituire con questo bracciale in l'acciaio l'acciaio 316L della glissin e niente dai che sono già riuscito a graffiare pur rimanendo sul bagno asciuga comunque contento di averlo usato dai dai un bello orologio che appunto completa la mia collezione di diver che per il momento ha un vostro canfibia e un citizen pro master questo è il terzo il più pregiato per il momento bene per il resto per il resto è tutto quindi ti saluto ancora una volta ti ringrazio per il tempo e lo spazio che mi dedichi che mi hai dedicato è un piacere e naturalmente al prossimo video love 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 niente una collezione cioè collezione è una parte della collezione è un aggiornamento presumo mi avevi già mandato un video e hai detto che è completamente quasi esclusivamente improntata sul vintage a parte l'ultimo glissing combat sub che è quello da 42 mm è uno di quelli che abbiamo visto anche ultimamente più spesso proprio quello con le sfere a matita uno dei più belli secondo me quello più più con più identità il resto gli orologi sono tutti dedicati al vintage tra zenit longin tutti belli titus complimenti perché sono orologi che mi sono piaciuti tutti quanti anche i longinetti secondo me di due coronne non ne ho viste una originale secondo me nemmeno quella del primo era però potrei sbagliarmi quella del secondo invece è molto molto piccola secondo me era da donna quella lì a cappello di prete che hai messo sul secondo longin comunque il voto è 7 7 perché ci piace il percorso che hai fatto ci piacciono gli orologi anche quello al diapason il bulovino che va sistemato va bene sistemerai e per il resto auguri ai figli maschi io direi che possiamo chiudere qua ragazzi io devo andare a vedere i gattini su instagram e quindi vi devo lasciare e vi ricordo gli appuntamenti fisici come sempre sono quando voglio io il più spesso possibile qui su youtube love and e Grazie a tutti.